Ciao e benvenuto su Top Tech Italia. In questo video ti presento i nostri migliori gazebo pieghevoli del 2022. Mettetevi comodi e iniziamo! Al quarto posto abbiamo selezionato il gazebo pieghevole Eiloc LEM. Il gazebo pieghevole è adatto per feste, spiaggia, mercati, compleanni, stand informativi e tanto altro. Tutto questo grazie al suo sistema di chiusura, ai suoi manicotti di serraggio e alla sua chiusura senza velcro. È un modello completamente idrorepellente e telescopico, infatti ha quattro lati con finestra, un'asta di metallo leggera e una cerniera con borsa. Così protegge da pioggerelle leggere. Inoltre è fatto di materiali resistenti e di alta qualità per una base davvero solida. Come risultato sarete in grado di godere di questa tenda con i vostri amici e familiari. Ovviamente è adatta sia ai bambini che agli adulti durante le feste all'aperto. Per coloro che sono abituati a organizzare picnic, questo modello si adatta perfettamente alle vostre esigenze. Come al solito su Top Tech Italia per tutti i maggiori dettagli vai sui link nella descrizione, mi raccomando. Al terzo posto abbiamo selezionato il gazebo pieghevole Tech Take 800 685. Tech Take 800 685 è un gazebo pieghevole e portatile che combina alte funzionalità, design accattivante ed eccellente protezione dalle intemperie. Questo gazebo permette un montaggio intuitivo, grazie al suo sistema di fissaggio a scatto. Questo senza la necessità di attrezzi. Inoltre è molto facile da smontare e occupa davvero poco spazio. Potrete facilmente riporlo nel vostro garage o trasportarlo sul vostro box da tetto. Infatti è ideale per i viaggi. Questa torretta è dotata di parti laterali smontabili che possono essere regolate in altezza su quattro livelli. Questa costruzione flessibile si adatta alle vostre diverse esigenze e anche al luogo in cui si sceglie di installarlo. Al secondo posto abbiamo selezionato il Toolport Pass 300 White. Il Toolport Pass 300 è un modello di alta qualità. Infatti ha un tetto farto di poliestere premium. Questa tenda è impermeabile al 100% grazie alle sue cuciture termosaldate. Quando si apre questa tenda offre fino a 5 altezze di regolazione. Una volta ripiegata occupa pochissimo spazio per uno stoccaggio facile e veloce. È stata trattata con materiali anti-UV e anti-corrosione per una resistenza e una protezione davvero ottimali. Bastano davvero pochi minuti per installarla. Infatti, per una sicurezza avanzata, questo Tollport Pass 300 è possibile fissarlo efficacemente al suolo grazie ai suoi tiranti e ancoraggi inclusi. E ti ricordo che per ottenere tutti i migliori sconti clicca sui link in descrizione, mi raccomando. Al primo posto abbiamo selezionato il Toolport Pass 300 Orange. Il Toolport Pass 300 Orange ha un telo dal tetto in poliestere di alta qualità. Protegge efficacemente dai raggi del sole e dalla pioggia. Inoltre, questa tenda incorpora dei profili quadrati 30x30 mm, molto solidi. Questi sono stati spruzzati con polvere bianca per offrirvi una protezione ottimale per molto tempo. Inoltre, questa tenda offre fino a 3 altezze di regolazione. Così potrete installarla dove meglio credete. Infine, i suoi tiranti e gli ancoraggi a terra fanno di questo Toolport un modello solido e pratico. Ora quello che vi invito a fare è molto semplice. Andate alla descrizione di questo video, cliccate sui link per ottenere tutte le caratteristiche tecniche più complete e trovare i migliori prezzi che abbiamo trovato per voi su internet.